Sì, stasera ci stiamo, ci dovremo divertire e sfidare tutti i nostri amici, è bello perché sono elettrici, quindi hanno tanta potenza e veniamo qua a divertirci, aspettando i miei test invernali che farò con la GP2. Parloci un po' dei tuoi progetti, a cosa appunto è la tua ambizione? Un altro anno dovremo fare il campionato di GP2, che è lo scalino prima della Formula 1 mondiale, che segue quasi tutte le tappe della Formula 1. Ci saranno i test a Gerec la prossima settimana per Barcellona e poi la prima gara in Malisia per la Formula 1. Con uno sponsor in più che Internet 1. Sì, sono molto contento di averlo così mi supporteranno in tutte le gare del campionato. Secondo me sei diventato già, nonostante la giovane età, un puntore di famiglia che posso sport da un punto di vista nazionale. Sì, ho iniziato da piccolino, poi man mano sono passato in categoria fino ad arrivare qua a GP2, è stato un bel traguardo, adesso vediamo di vincere in Formula 1. Perfetto.